Perché è qui oggi? Per manifestare il nostro diritto alla scuola per i nostri bambini. Soprattutto per mia figlia e poi per tutti i bambini ovviamente. Riteniamo che le istituzioni in questo momento ci stanno dimenticando e quindi vogliamo manifestare proprio per dimostrare che la scuola dell'infanzia fa parte della comunità e che noi abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni. Campania a lutto. Le mamme, i bambini, insegnanti in corteo questa mattina a Treviso. Una protesta pacifica, un volantinaggio simbolico, quello della scuola paritaria dell'infanzia provera di Sant'Angelo per chiedere l'intervento delle istituzioni per continuare a garantire il diritto all'istruzione. La prima risposta è già arrivata dalla regione che ha stanziato 42 milioni di euro in favore delle scuole paritarie in Veneto. Un provvedimento, quello voluto dalla giunta guidata da Luca Zaia, a sostegno dei quasi 90.000 bambini che frequentano queste scuole per assicurare loro quotidianamente un servizio adeguato alle loro esigenze. E intanto c'è già chi guarda al futuro, puntando sull'autonomia scolastica regionale. Io credo che il primo punto di un programma per il Veneto 2015-2020 debba essere questo, chiedere al governo di aprire un tavolo di trattativa per portare a casa la materia dell'istruzione e le risorse necessarie a garantire, ad esempio, la sopravvivenza delle nostre scuole dell'infanzia paritarie.